buongiorno celebriamo oggi la memoria di sant'agostino vescovo e prima ancora figlio di santa monica la mamma celebrata ieri che con le sue lacrime ha ottenuto la conversione del figlio al cristianesimo agostino un giovane inquieto che ricerca la verità con passione indagando attraverso le filosofie pagane dell'epoca e anche con una vita in qualche modo dissoluta sarà tuttavia l'incontro con sant'ambrogio di milano e la sua predicazione a introdurlo alla conoscenza di gesù alla conoscenza di colui che diventa l'unica verità il motore assoluto dell'esistenza di agostino questo uomo profondo desideroso sempre di non rimanere in superficie della vita farà di gesù il polo che lo porterà a essere anche vescovo a servizio della propria gente agostino ci ha lasciato una grande quantità di scritti e sono tutte opere che illuminano la storia della chiesa e la teologia ancora oggi un'esperienza umana spirituale teologica straordinaria che ci aiuta a comprendere anche la parabola della liturgia odierna al capitolo 25 di matteo i versetti dal 14 al 30 gesù propone una terza parabola sul compimento del regno la cosiddetta parabola dei talenti sono i talenti dati in consegna dal padrone ai suoi servi prima di un lungo viaggio cinque talenti al primo due al secondo uno al terzo ma mentre i primi due servi trafficano questi talenti il terzo preferisce depositare sotto terra il proprio e riconsegnarlo al padrone così com'è mentre gli altri due hanno prodotto altri talenti e hanno potuto essere introdotti alla gioia definitiva del padrone che li ha accolti in un abbraccio di bontà per il terzo servo invece è proprio l'immagine del padrone il problema per lui quest'uomo che comanda è uno di cui aver paura perché miete dove non ha seminato e riscuote quello che non gli spetta quante volte l'immagine di un dio padrone di un dio che punisce di un dio castigatore rovina la vita spirituale degli uomini come di questo servo per agostino fu proprio contrario la scoperta che dio è misericordia perdono infinito che dio è più intimo a noi stessi della nostra stessa intimità fu la esplosione di una grande gioia e la forza di una vita nuova che cambierà radicalmente il suo modo di affrontare l'esistenza il nostro cuore inquieto ci lascia come ricorda agostino e non ha pace fino a che non riposa in gesù egli agostino ha trovato questa pace e la vissuta fino in fondo anche per noi oggi la possibilità di scoprire che questo talento d'amore che questa possibilità di una pace intima ci è già stata data ed è da scoprire proprio dentro il campo della nostra esistenza quotidiana buona giornata alla scoperta della pace in gesù